Ieri sul piazzale antistante la chiesa di Santa Caterina è stata inaugurata l'edicola votiva dedicata a Santa Rita, una nicchia in pietra, un angolo di pura spiritualità e preghiera che si trova nello spiazzale della chiesa, fruibile da chiunque voglia dedicare un atto di fede e devozione alla Santa delle cause impossibili. L'idea di recuperare questo angolo abbandonato è stata del Comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Rita che ogni anno il 22 maggio onora la Santa, la cui devozione ammistretta è molto sentita. Dall'idea si è passati al progetto e infine alla realizzazione dell'opera, grazie anche al supporto di padre Giovanni Lapenne. Subito questi giovani si sono attivati per contattare le maestranze per realizzare l'edicola votiva. I lavori di pulitura della pietra e il ripristino della nicchia sono stati eseguiti e offerti interamente da Nino Ferraro. Le scossaline che servono a evitare infiltrazioni d'acqua sono state offerte da Sebastiano Di Marco. Lo sportello in ferro a protezione della statua e realizzato da Alessandro Sirni è stato commissionato da Marisa Cittadino. La base in legno che serve per tenere rialzata la statua è stata offerta e realizzata da Sebastiano Di Marco, mentre la tinteggiatura del cancello in ferro è stata omaggiata da Giuseppe Porrello. I materiali e i led con cui è stata realizzata l'illuminazione della nicchia sono stati offerti da Rita Mancuso e installati gratuitamente da Maurizio Pane. La base in pietra realizzata da Serafino Azzolina su cui poggia la statua è stata offerta dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Rita e infine la meravigliosa statua è stata offerta da Antonino Laganga. Ognuno in questo bel progetto ha fatto la sua parte, nessuno si è tirato indietro. L'opera sarebbe dovuta essere pronta per la fine di aprile ma a causa della pandemia i lavori hanno subito una battuta d'arresto. A fine maggio sono ripresi i lavori che si sono conclusi a metà giugno per giungere al 23 agosto, giorno in cui si è potuta benedire l'edicola votiva. Quest'anno tra l'altro ricorrono i 120 anni dalla canonizzazione della Santa e non poteva esserci dunque occasione migliore, dichiara Emanuele Di Marco durante l'inaugurazione. È vero, sono state tante le difficoltà, ma altrettante sono state le gioie per quest'opera pensata, progettata e finalmente realizzata. La buona riuscita dell'evento si deve ad altrettanti amastratini, continua Emanuele Di Marco, che hanno donato il necessario per rendere perfetta questa occasione speciale, come Giovanni Ribaudo che ha realizzato e offerto la targa in ricordo di questa giornata, Santino Cristaudo che ha offerto la composizione di rose per addobbare la nicchia, Vita Gentile che ha offerto le immaginette di Santa Rita in ricordo di questa giornata e Nina Emaniaci per aver offerto le luminari e installato gratuitamente l'illuminazione.